buonasera e benvenuti alle parole della fede dono di sé sacrificio e incontro sono le tre parole chiave che abbiamo fin qui individuato per rispondere alla domanda della settimana chi è il dio in cui crediamo anche oggi cercheremo di fare un ulteriore passo avanti con l'aiuto stasera di don gerardo di paolo rettore del santuario del divino amore benvenuto grazie buonasera a voi e del nostro teologo di questa settimana don pino lorizio ciao don pino bentornato buonasera a tutti allora rimettiamo in fila le parole come facciamo ogni volta inizio puntata dono di sé sacrificio incontro in che maniera rispondono alla nostra domanda chi è il dio in cui noi crediamo il dio in cui crediamo è un dio che ci viene incontro in gesù cristo per cui le verità di fede si concentrano tutte sulla parola di gesù io sono la verità ma questo incontro ci dobbiamo rispondere quindi dobbiamo essere in grado di accogliere di conoscere e dunque anche di essere grati nei confronti di questa presenza di dio nella storia dell'umanità e nella nostra storia oggi vogliamo il passo avanti di oggi parte da una constatazione che quello che c'è descritto è il dio in cui noi crediamo ma nelle nostre preghiere noi non ci rivolgiamo soltanto a lui vengo alla domanda di oggi maria e i santi ci avvicinano a dio questa è la è la domanda don pino comincio da te come sempre dovrebbero avvicinarci a dio spesso ciò accade nella misura in cui la nostra devozione verso maria verso i santi è autentica a volte però può anche accadere che ci distolgano nel senso soprattutto che certe devozioni possono incorrere nel vizio del paganesimo e tuttavia penso anche che dobbiamo distinguere maria dagli altri santi maria un ruolo tutto particolare nella teologia nella fede cristiana perché è la madre di dio è lei che ha generato dio e questo veramente è un tocco ma del tutto paradossale che noi abbiamo di fronte nel quale crediamo noi cristiani perché e perché nell'antichità la madre di dio era la teotocos cioè iside che era una dea a differenza di maria che non è una dea ma una donna una donna che è madre di dio ecco proprio da qui traiamo spunto per dire che abbiamo bisogno di un dio umano abbiamo bisogno di un dio che si fa presente e questo dio è il dio di gesù cristo generato da maria e il culto dei santi ha un suo senso perché perché diversa qualora non ci fosse potremmo pensare che il vangelo sia un utopia qualcosa di irraggiungibile di impossibile invece attraverso le figure dei santi pensiamo per esempio all'ultimo beato carlo agudis no dio ci mostra come il vangelo può essere vissuto in ogni situazione dalle donne dagli uomini e in ogni epoca della storia in ogni condizione sociale persino dai politici c'è il santo dei politici che è il santo masomoro e magari i politici si ispirassero a lui il che significa che il vangelo deve essere qualcosa di concreto e i santi ci aiutano a aver presente la nostra situazione alla luce del vangelo don gerardo che significato assume nella vita delle persone che vengono in pellegrinaggio al tuo santuario l'esperienza del pellegrinaggio la devozione a a maria e sto parlando di numeri importanti perché in età in era pre covid insomma sono più di 10 mila persone a settimana che vengono al divino amore più o meno sì beh sì tanta gente viene al santuario e ovviamente viene al santuario per per pregare la madonna quindi vivo un'esperienza di incontro con la vergine santa ma in realtà poi dopo la vergine ci porta a dio insomma ecco vedi c'è una c'è un'icona evangelica molto bella che ce la riporta giovanni ed è interessante che dopo il prologo del suo vangelo in cui proclama appunto che gesù è la manifestazione di dio cioè dio nessuno l'ha mai visto proprio il figlio unigenito che nel grembo del padre ed è dio lui ce lo ha rivelato dopo questa programmazione così importante solenne in cui appunto ci viene detto che soltanto in cristo c'è salvezza ci racconta questo episodio di cana in cui maria appare proprio come una mediatrice in qualche modo dell'azione di gesù sollecita gesù perché conceda il dono a questi sposi di un vino nuovo perché non c'è più allora ecco lì emerge questa figura di maria come colei che media in qualche modo no la nostra il nostro arrivo a gesù e in qualche modo dispensa anche un po le grazie con questa figura dell'episodio di cana è l'icona per te è un'icona interessantissima se vogliamo è un dono evangelo significato che ci va a capire il ruolo di maria accanto a gesù la proclamiamo non io insomma ma il magistrato della chiesa anche i padri della chiesa se vogliamo tanti santi no guardano a maria come una sorta di corredentrice accanto a cristo e quindi qualche modo partecipa anche un po della sua mediazione e alcuni c'è un c'è una figura interessante c'è padre san massimiliano colbe che definisce dice questo che ci sono due modi di essere mediatori uno è quello di ricevere qualcosa per donarlo ad altri c'è l'altro modo in cui si riceve qualcosa per se stessi con la possibilità di fare quello che se ne vuole ecco dice massimiliano colbe dice maria è questa seconda categoria il signore raccolmata di beni e lei può fare distribuire questi doni di dio le grazie come vuole a chi vuole la parola chiave però che tu hai individuato è mediazione una parola che tornerà prima sentiamo però una piccola anticipazione della domanda che abbiamo fatto alle persone andando un po in giro la domanda di oggi è quando preghi a chi ti rivolgi sentiamo poi la pubblicità non mi rivolgo particolarmente a qualcuno insomma diciamo più a me stesso è io mi mi rivolgo a tutte le persone che comunque mi vogliono bene la mia richiesta è sempre verso gesù di solito gesù e maria e così vado tranquilli di nuovo in diretta il momento di ascoltare le vostre risposte la domanda che vi abbiamo fatto quando preghi a chi ti rivolgi sentiamo non mi stesso ecco alle mie capacità ecco mi rivolgo a dio in particolare in tutte e tre le sue manifestazioni e in particolare a cristo a gesù cristo che sento come una presenza viva quindi a volte mi trovo anche a ringraziarlo nelle cose che mi succedono nella giornata senza dover per forza andare in chiesa o trovare un momento specifico non me lo devo andare a cercare sta lì sono io che come dire lo lo chiamo e lui risponde addio alla madonna insomma prego di solito con parole mie più o meno tutte le sere poi dipende ci sono dei periodi in cui sono più a sito altri un po meno insomma mi aiuta quando sono un po sfiduciata e in questo periodo soprattutto che particolarmente difficile io mi rivolgo a tutte le persone che comunque mi vogliono bene perché penso che comunque mi seguono sempre e soprattutto addio in questo modo riesco a entrare in contatto e ricevere sicuramente l'aiuto il calore che ho bisogno in quel momento addio addio Gesù io in genere mi rivolgo a Gesù e dico aiutami tu guidami tu accoglimi dammi come posso dire guidami ecco la mia richiesta è sempre verso Gesù Gesù come padre come come amico come come guida io a lui mi rivolgo non sono tanto per santi qua santi il padre pio cioè queste cose sì sicuramente però a volte io penso un po' folcloristiche un po' per me c'è una sola persona che è Dio come inteso come padre di solito Gesù e Maria e così vado tranquillo Don Pino che cosa ci dicono queste risposte del nostro modo di incontrare e pregare Dio ci dicono innanzitutto almeno in coloro che hanno risposto a queste domande poi bisognerebbe vedere cosa pensa la gente in generale però ci dicono intanto che c'è un unico mediatore questi è Cristo che questa mediazione ci raggiunge anche tramite quelle che tecnicamente si chiamano le mediazioni partecipate cioè la partecipazione al mistero di Cristo innanzitutto di Maria come come abbiamo detto prima ma anche di queste figure di santità che ci rendono concreto il Vangelo io credo che dobbiamo dobbiamo anche vigilare la Santa Sede lo sta facendo perché c'è un organismo che è stato di recente istituito proprio perché si vigili sul rischio che le devozioni in particolare la devozione a Maria o le devozioni ai santi che si manifestano nelle feste popolari soprattutto al sud ma non solo possano essere manipolate e strumentalizzate dalle mafie questo è stato detto più volte in termini anche abbastanza forti ma appunto questa vigilanza deve essere sempre presente sul territorio perché dobbiamo ecco sempre essere vigili perché il paganesimo non costituisca una forte tendazione nella quale ricadere certo quello che stai dicendo è proprio diciamo la deriva più estrema e più terribile nelle parole che abbiamo sentito invece c'era un altro avvertimento di un pericolo quello del folclore della superstizione lo chiedo a Don Gerardo qual è la differenza tra la devozione quindi cercare questa strada verso Dio attraverso Maria attraverso i santi e invece l'elemento folcloristico se non addirittura superstizioso sì ma io direi semplicemente questo che anche l'esercizio di una devozione deve portarci poi al traguardo finale cioè deve condurci quindi all'incontro col Signore forse anche attraverso i santi, attraverso la Madonna Gesù ovviamente è la via maestra, lui è l'unico mediatore quando la devozione diventa qualcosa di fine a se stesso viene assolutizzata praticamente si smarrisce la consapevolezza che quella devozione è uno strumento che ci porta a Dio quando viene assolutizzata diventa quello che è il mezzo, diventa un fine lì rischiamo di scivolare una forma di superstizione sentiamo che cosa dice il Catechismo al numero 956 parla qui dei santi e beati, leggiamolo insieme chiedo alla regia di farlo vedere, eccolo qua santi e beati non cessano di intercedere per noi perso il Padre la nostra debolezza è quindi molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine Don Pino abbiamo pochissimo tempo chiedo, ma noi perché abbiamo bisogno di qualcuno che interceda per noi? se il Padre è buono e misericordioso l'intercessione sta a significare il fatto che la Chiesa è la comunione dei santi come recitiamo nel simbolo, nel simbolo apostolico credo la comunione dei santi e quindi che si crea tra i credenti nelle diverse epoche della storia e della vita anche tra coloro che sono ancora sulla terra e tra coloro che sono passati ad altra vita una rete, ecco una rete di spiritualità, di condivisione, di connessione quindi di comunione Don Gerardo mi dici qual è la cosa più bella tra l'altro tra poco andrò in onda il rosario qual è la cosa più bella della devozione a Maria? che cosa hai visto? che cosa ti dà l'essere in quel luogo così importante per i romani? io farei proprio riferimento a questo santuario tanto caro ai romani che è il santuario del divino amore il messaggio che speriamo, che ci sforziamo di consegnare a tutti i devoti che vengono è duplice è quello di scoprire una presenza perché poi la percepiamo veramente è un luogo carismatico si sente questa presenza di Maria ci si sente un po' abbracciati abbiamo pochissimo tempo Don Gerardo il primo ecco due immagini molto veloci l'immagine dell'icona di Gesù che dalla croce ci consegna a Maria e ci consegna a lei è una maternità riscoperta in cui ognuno di noi è invitato a prendere con sé Maria quindi è una vita riscoperta da vivere con Maria Gesù stesso ce l'ha consegnata e la seconda è l'annunciazione Maria risponde sì a Dio ecco imitarla perché in questa la dinamica della fede è proprio questo c'è un aspetto in cui ci invita a chiedere a Dio ma anche a rispondere a Dio quindi ecco Don Pino dieci secondi la parola chiave di oggi la parola è quotidiana cioè il santo della porta accanto come ama dire Papa Francesco cioè la presenza di Dio nella vita di tutti i giorni anche attraverso il riferimento a persone concrete che sono stati fedeli al Vangelo manca una sola parola per completare l'itinerario ci vediamo domani alle 19.30 grazie Don Pino grazie Don Gerardo buona serata a tutti voi grazie 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 a tutti.